benvenuti carissimi amici una nuova puntata di un ponte tra italia e russia oggi intervisterò carlo devoti che vi presento subito però prima lo saluto ciao carlo ciao parleremo di cose che a cui mi sta che mi stanno veramente a cuore cioè rapporti fra italia russia ma parleremo anche di giovani iniziative dedicate ai più piccoli parleremo della russia di tante cose innanzitutto vi dico vi presento bene il mio ospite carlo devoti è maestro dello sport del coni e ambasciatore dell'accademia olimpica italiana che conosce molto bene la russia è stato invitato quest'anno anche al festival di cui ci parlerà che rose vietrofo come unico ospite se non sbaglio però lui ci racconterà meglio straniero ospite d'onore però facciamo un passo alla volta perché i temi sono tanti e l'ospite è veramente speciale perché come sapete amici a me piace tanto confrontarmi con chi conosce bene la realtà russa la realtà italiana quindi ha tante cose da raccontare carlo tu hai viaggiato tanto conosci bene la russia ci vai spessissimo ogni anno però adesso sei stato invitato a prendere parte alla giuria del festival rose vietrofo come ospite d'onore come è andato questo viaggio e se puoi dire due parole sull'importanza di questo festival giovanile e beh il viaggio è stato un viaggio lungo perché io non sono ogni anno io faccio un viaggio nell'est europa perché organizzando un festival internazionale di giovani in italia a berceto parma sulle nostre montagne io ogni anno vado a incontrare chi ho invitato e chi intende partecipare perché gli ospiti sono sono principalmente gli stessi però cambiano ovviamente sicuramente i bambini sono sempre gli stessi le organizzazioni sono le stesse e con loro mi metto d'accordo per l'anno che deve venire e perciò quest'anno ho iniziato il mio viaggio in slovacchia poi sono passati l'ungheria poi in romania poi in bulgaria poi ho fatto tutta la turchia sono entrato attraverso la grande città di batumi in georgia sono mi sono diciamo innalzato fino a tiblisi la capitale poi attraverso le bocche del caucaso ho cominciato il mio viaggio partendo da grosni che la capitale della cecenia poi la di kafkazza che praticamente o se il capitale dell'ossetia e dell'alania loro la chiamano anche alania e poi la cabardino valcaria nalcic capitale dove c'è una regione famosa perché c'è la lì si trova la grande montagna dell'embrus che è la più grande montagna d'europa e poi dopo c'è sono passato a beslan a beslan anzi prima beslan di gracci beslan è quella città dove è accaduto quella tragedia nel 2006 quando sono stati uccisi tutti quei bambini all'inizio dell'anno scolastico non so ma sarebbe molto ricordata questa data per loro soprattutto in russia e poi dopo kropotin rostov vondon voronez e dopo mosca mosca dove ho partecipato si è finita ieri la manifestazione questo grande festival che da cui arrivano bambini selezionati diciamo tutte le regioni della russia per gareggiare fra virgolette a mosca appunto nei piovei teatri in questa manifestazione che un po il compito di selezionare i talenti al fine poi di poter aiutare perché si avviano sostenuti la loro passione che diciamo si perfezioni nella loro passione artistica questo è un po il mio compito io faccio parte senza competenza perché io sono un maestro di sport non sono un maestro d'arte nel senso che non ho la competenza specifica e però loro mi dicono sempre guarda che tu per noi sei sei comunque un ospite importante perché tu da tanti anni inviti i nostri bambini in tutta la russia per la ragione per cui io sono considerato infatti un ospite un ospite importante come dicevo carlo devotti è stato invitato come ospite d'onore per le tantissime iniziative di cui parlava tu quindi hai incontrato anche in questa occasione tantissimi russi tantissimi bambini anche noi sappiamo che il periodo che stiamo vivendo politicamente ai minimi storici fra russia italia però per quanto riguarda i rapporti umani i rapporti sociali tutta questa sfera cosa ti senti di dire cioè come sei stato accolto qual è il rapporto con con gli italiani oggi quanto erano contenti di averti fra loro insomma l'aspetto umano ah beh io direi che l'aspetto umano assolutamente non è cambiato per quanto mi riguarda perché loro come sempre mostrano una grande attenzione per l'italia direi un amore perché sono tutte scuole d'arte questi ragazzi qui incontro sono tutte scuole d'arte anche di sporma prevalentemente scuole d'arte e noi sappiamo che l'italia loro lo studiano nelle loro storie d'arte perché non si può trascurare lo studio dell'italia e perciò imparano ad amare l'italia attraverso una materia che loro amano e perciò trasferiscono questo amore per la l'attività artistica nella nostra nazione perciò per loro è naturale e poi un altro aspetto che colgo continuamente e tutti le parole scritte in italiano io ho trovato mai trovato tante parole scritte in italiano ma non solo nei ristoranti che quello è abbastanza normale tutte le nazioni del mondo si trovano sempre scritte in italiano ma anche nelle anche nei negozi di moda che sono per esempio la mosca sono innumerevoli e nei prodotti alimentari non parliamone tutte queste cose ti portano così a pensare che alla fine questo affetto per l'italia non l'hanno perso ecco in questo parco grandi in cui abbiamo tenuto l'ultima l'ultima diciamo manifestazione praticamente e c'era un ristorante che l n n d n d n k h che sarebbe un parco meraviglioso al centro al centro di mo a centro proprio prima era la prima periferia se ormai si è avviata il centro per mosche talmente grande che è lì dove si tengono si tiene una grande fiera delle esposizioni di tutta la russia e praticamente c'è un ristorante italiano anche lì dentro nonostante questa mostra sia riservata alle regioni della russia ecco per dire volevo giusto sappiamo delle musiche dei canti che è una cosa si sa che non solo la russia in paese all'est in genera amano molto le nostre melodie qui sono più famosi più famosi cantanti italiani che loro no adesso esagerò comunque sono molto famosi cantanti italiani non solo non solo la 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 il festival per quanto riguarda le canzoni perché è fatta in tanti settori e durante la canzone l'ha vinta una ragazza che ha cantato una canzone italiana ad agio che era 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 ancora famosa perché l'aveva interpretata lara fabian quella cantante italo italo belga ecco qui ha fatto questa canzone poi è stata cantata in inglese anche così questa ragazza è cantata e ha avuto il festival per dire è così è una combinazione non voglio dire secondo me secondo me non è invece una coincidenza perché come hai detto si respira veramente tantissimi italia anche a mosca in russia io lo confermo che ci sono stata due mesi fa e non si sente questa differenza io aggiungo grazie al cielo per fortuna da un punto di vista umano e sociale questa quest'amore che c'è per l'italia è visibile e si si vede si tocca con mano io volevo volevo chiederti carlo anche questa cosa di commentare l'importanza di questo tipo di festival come questo che si chiama rosa vietroff un festival giovanile dove partecipano tantissimi bambini da tutta russia cioè io volevo sottolineare questo l'iniziativa è come questa in realtà in russia sono tante dove si fanno queste selezioni dove si riesce a capire i talenti dei bimbi per promuoverli e quanto quanto è importante oggi questo e secondo te in italia possiamo paragonare questa cosa o secondo te manca in italia questo tipo di iniziative ma guarda assolutamente non c'è non c'è paragone cioè in russia per l'amore ma io dico in russia in tutti i paesi dell'est perché io lo noto anche in tutti i paesi dell'est l'amore per le tradizioni per le loro tradizioni attraverso le tradizioni loro si fanno una grande identità con la grande cultura e di conseguenza sono sostenuti dalle istituzioni dalle scuole dalle famiglie ci tengono molto subito gli anziani che le tradizioni vengono mantenute perciò i giovani si sentono molto motivati in questa intrapresa diciamo artistica e tutte le scuole e tutte le scuole c'è c'è un'orchestra c'è un'orchestrina un coro una scuola di disegno ma in tutto non solo in russia io lo vedo in gerardo in romania in bulgaria in ungheria in slovacchia in cechia in tutti quei paesi lì polonia c'è questa perché da loro ai tempi della dell'unione sovietica il modello diciamo culturale il modello l'educazione scolastica era un'invoca cioè più o meno si differenziava un po' ma era quella lì pronta e perciò avevano preso grande grande forza le casse chiamavano le case della cultura che esistono in ogni paesino in ogni villaggio c'è la casa della cultura è una cosa veramente così che ti fa pensare facendo un confronto con l'italia che noi proprio abbiamo perso non esistiamo in questo discorso in questo confronto per esempio l'eccellenza noi vengono vengono curate perché noi abbiamo eccellenza nelle attività artistiche ma si rivolge a quelle poche persone che mostrano quel talento che poi hanno la possibilità di scoprire perché molti vogliono senza sapere il talento che avevano invece da loro è difficile che uno muoia senza conoscere il suo talento perché è tale diciamo l'opportunità che hanno di manifestarsi che alla fine si intraprendono intraprendono su quella strada poi ci sono altri problemi non vogliamo mica denigrarci ma in quel settore sicuramente loro prestano più attenzione sì che poi carlo volevo anche aggiungere che adesso parliamo di un festival possiamo chiamarlo dedicato alle danze comunque alla ma delle attività artistiche però devo dire che ci sono tante iniziative anche scientifiche o comunque che coinvolgono tantissime scuole russe come si fanno si trattano materie come la chimica la matematica la fisica sappiamo che anche i bimbi russi e probabilmente anche di altri paesi adesso parlo per la russia ma magari anche altri paesi dell'estano queste scuole molto forti quindi c'è questa voglia di coinvolgere fare tante iniziative che vanno al di là della classica scuola ecco diciamo quindi dire che anche la preparazione molto alta si investe tanto e si dà un ruolo importante a quello che è la scuola ma anche la preparazione i talenti andare avanti insomma ecco io devo dire questo che anche qui in questo fessi hai parlato molto di talenti no è perché tutte le volte talan talan continuano a dire che a volte non fa non fa sempre piacere perché il talento a volte anche una questione di combinazione di fortuna di dove abiti dove sei nato perciò continuare a esagerare diciamo essendo anche di estrazione sportiva sul del talento una parola che mi piace anche a volte mi può dare un po' fastidio però effettivamente la differenza è io sempre ritenuto che la buona società sia quella che offre i suoi giovani soprattutto l'opportunità di scoprire i talenti di coltivarli quella è la buona società e di conseguenza qui devo dire che c'è questa tendenza di scoprire talenti nelle persone e di incamminarsi poi tutti non hanno questa possibilità perché abitano come dico in zone sperdute la russia e vediamo basta guardare la carta geografica è una cosa che uno prende paura e perciò hanno detto che si infatti mi dicono sempre guarda carlo che la russia non è così da per tutto e io lo so ma guardando la cartina si capisce che non può essere però le città che visito io di solito hanno queste impronte insomma c'è chi ha mantenuto le sue caratteristiche come croppoti che ha l'impressione di arrivare una russia di tanti anni fa e io dico sempre lo mantenete la così non costruite i grattacieli come fanno come fanno come fanno mosca come fanno waronez o stovondon perché poi uno si sviluppa secondo la sua indole e le sue possibilità però anche quella che è rimasta così con le casette diciamo basse con tutti i giardini attorno con gli alberi e al fascino per me che perché così anche c'è che anche slovacchia e però io sono rimasto un po così proprio sopra e fatto fatto molto fotografia ho visitato il museo nazionale della russia ho visitato il museo della guerra patriottica e quindi primo a ieri del primo al 6 c'era la settimana di vacanze dove tutti i ragazzi vanno in vacanze perciò tutti i bambini si riversavano diciamo ma anche quelli che venivano da fuori venivano a mosca molti infatti questi alberghi dove io sono alloggiato che gli smailovo sono quattro alberghi che loro ospitavano gli atleti dell'olimpiade nel 1980 bellissime tra l'altro considero quattro cinque stelle erano pieni di bambini che arrivano dalla russia per vari festival per varie iniziative no e lì c'erano i bambini con i loro maestri perché io poi ho chiesto ad una signora c'era una maestra ma ci sono la maestra di questa classe seduti attorno ai quadri attorno a queste a queste diciamo iniziative scientifiche perché poi ho visitato dentro questo grande parco anche i vari musei scientifici dove con i quaderni scrivevano e prendevano appunti e perciò si vedeva che l'interesse diciamo dei ragazzi era piuttosto vasto è vasto poi non si può dire per esempio io ho girata molto e devo dire dal 2003 che io vengo con la stessa formula in russia nei paesi dell'estero e soprattutto in russia sto sempre un mese e avendo la fortuna di viaggiare in macchina chiaramente sai mi fermo fotografo guardo un sacco di persone che mi conosco che mi aspettano che mi spiegano con i quali mi confronto e tutte quelle cose ecco è noto tanti aspetti che probabilmente volando in aereo non riesci neanche a capire è verissimo è verissimo questo modo di viaggiare totalmente diverso conosco anche ho intervistato in passato un italiano un signore italiano in pensione che ha attraversato la russia a piedi per dire ecco così si conosce ancora meglio no più lento il viaggio chiaro si è proprio andare a dare la possibilità di vedere di pensare di scambiare sì sì carlo in realtà è raccontato proprio come dire degli esempi molto russi ai quali sono abituata a questo di portare intere classi regolarmente o ai teatri o a vedere i balletti o nei musei cioè non è una cosa eccezionale ma è una cosa normalissima che magari può stupire qualcuno che ci ascolterà però ecco in russia o nelle grandi città almeno questo questa è una cosa una pratica normale perché la cultura come scrivo anche sul canale ho fatto un post dedicato a questo hanno girato tutto il web russo le immagini di questi moscoviti che di notte hanno formato una fila un giorno fa per avere i biglietti alle casse del balshoi per la prima dello schiaccianoci visto che le casse aprivano la mattina sono arrivate lì di notte pur di ottenere un biglietto per cosa per vedere lo schiaccianoci quindi sono cose magari che per un come dire europeo possono sembrare non per tutti ma si faceva così a parma il regio mi ricordo che c'erano anche le fine di notte perciò io una cosa storica non so se adesso sia così comunque ecco quello che volevo chiedere una domanda da un milione abbiamo capito questa volontà di investire nei giovani credere nei giovani in russia creare tanti festival iniziative punti di riferimento per loro in italia non da quello che osservo da quello che diceva anche tu non è proprio così ma domanda da un milione perché secondo te non c'è questa voglia questa volontà politica prima e poi anche a livello così di territorio di investire in questi giovani cioè far capire loro che possono fare tanto e sono importanti beh innanzitutto c'è proprio uno stimolo a livello governativo ma che però c'è sempre stato eh io sempre tutte come dico da vent'anni vabbè io poi ho vissuto l'era l'era ultima fisicamente perché prima la russia la conoscevo perché giocando con la squadra nazionale di pallavolo chiaramente incontravamo allora l'unione sovietica perciò dal sessanta sessantotto che io conosco la russia attraverso lo sport e poi solo dopo mi sono avviato sulla strada dell'arte perché come sappiamo arte e sport sono il binomio binomio olimpico e poi per altre ragioni insomma che non posso adesso dire tutto e perciò perciò questa questa cosa c'è sempre stata di vedere nei giovani e anche uomini così diciamo eh che conosco importanti che siedono un po' nelle seggiole più in alto eh dei vari ministeri mi dicono sempre che per loro i giovani sono la migliore rappresentanza della loro cultura ma dove dove questo dove carlo pari della russia dicono sì sì loro sui giovani ma investono e a differenza nostra che tendiamo principalmente così nei paesi occidentali direi in genere eh tendiamo ad ammaestrarli i giovani cioè cerchiamo di avviarli a seconda di quello che ci può far comodo il mercato no ecco loro questa tendenza non ce l'hanno non ce l'hanno io per esempio quante volte ho sentito dire eh anche parlando con dei genitori ma qual è il settore che tira di più che c'è più da più prospettiva di lavoro a me a me mi sembrava un ragionamento non sbagliato non corretto perché dico ma tu devi guardare qual è la tua tendenza qual è la tua motivazione perché se non ha fai un lavoro che poi d'accordo può stare sul mercato ma poi dopo tu non lo senti non è il tuo mestiere tu non vivi una bella vita perciò anche quello di avere la possibilità per un giovane di cercare come dicevo prima la strada giusta da seguire è già una buona partenza invece da noi cerchiamo di ammaestrarli perché diventino dei buoni operatori dei buoni operatori che poi diciamo danno servono il mercato in poche parole ecco e invece stranamente stranamente perché sembra quasi un concetto assurdo in un mondo che è nato del comunismo e praticamente è un concetto del genere forse era nella teoria ma il person anche nella teoria del comunismo è forse un idole perché loro hanno un concetto di democrazia diverso dal nostro cioè la democrazia per loro non è che ognuno fa quel che vuole da loro dobbiasi vuol dire che ognuno fa quel nel rispetto di quello che sono le regole di quello che sono le persone con cui vivi dove operi e perciò è un concetto un po io penso ecco di questo non ho mai parlato ma il nostro stile di vita non è che è molto molto e diciamo i nostri luccichi gli arrivano ma sono più che altro i bambini che si lasciano prendere ma vedo che gli adulti gli adulti sono un po stile in questo modo di tutti questi luccichi che arrivano dall'occidente ecco perciò è un modo un po diverso anche di intendere di intendere la vita è chiaro che loro hanno fatto questi brutti periodi col comunismo però anche sul comunismo e se non voglio fare un discorso proprio che è mica il mio mestiere io penso sempre che alla fine è loro quando hanno fatto la rivoluzione erano serviti vabbè diciamo che erano stati liberati prima dall'izzarla sul 1870 80 però loro servi della greba e perciò loro si sono trovati in una condizione che comunque hanno fatto un passo avanti hanno fatto un passo avanti infatti ieri quando io ero dentro questo grande parco e vedo e vedo queste grandi simboli del comunismo ancora sono tutti tutti sono tutti simboli del comunismo io io ho una accompagnatrice che va da una processa di pedagogia dell'està di mosse statale mi faccio a me ma quanto ostentate ancora quella lenin davanti all'ingresso tutte le cose ma carlo questa è la nostra storia noi non è che non la riconosciamo siamo passati per questi periodi chiaro che noi con il comunismo non vorremmo più tornarsi ma però siamo passati di lì e siamo arrivati qui per dire questo questo dettaglio questo dettaglio carlo che hai notato è importante e tu hai citato più spesso durante queste interviste il parco vedenkha giusto due parole per chi guarderà il video è questo bellissimo parco dedicato a tutti gli sviluppi risultati ottenuti dal paese prima dalle repubbliche ex quindi sovieti che ci sono tanti padiglioni bellissimi da un'architettura fantastica dedicata all'usbekistan all'ucraina la bielorussia quindi insomma è proprio un posto molto bello sia esteticamente che da un punto di vista delle mostre l'usbekistan c'ha un padiglione che io quando l'ho visto avete dato tutto questo splendore qui l'usbekistan era la nostra repubblica perciò ogni repubblica aveva una grande grande veramente un grande edificio dove si mostrava nel sottile e dove raccoglieva tutto il meglio adesso questo questa finalità che prima era riservata alle repubbliche ex sovietica sempre mi ha detto questa questa professoressa mi ha detto adesso le vediamo dedicate alla regione perciò 32 sono le regioni della russia e di conseguenza ogni regione ha un padiglione dove potrà mostrare tutto il meglio diciamo dalla cucina all'arte la tecnologia è una mostra permanente di tutto il meglio che ogni regione possiede e questo serve per far capire che la russia è diversa è diversa e loro questa diversità la apprezzano la apprezzano la spingono la russia molto diversa al suo interno e volevo dire giusto una cosa velocissima su questi simboli ancora dell'epoca sovietica ovviamente non vengono svantellati perché come ha detto giustamente la tua accompagnatrice la guida russa fa parte della storia in russia non c'è questa moda di smantellare i segni del passato perché sono importanti anche se appartengono appunto ad altre epoche ma non si possono cancellare come anche la bellissima metropolitana è dedicata in nome di lenin quindi ovviamente c'è falce martello quindi sono cose che uno non può prendere e smantellare non ha alcun senso però quello che ti volevo chiedere in chiusura una cosa che non possono chiederti come a maestro dello sport del CONI sportivo questa cosa questa tendenza che abbiamo visto ad escludere gli atleti russi dalle competizioni per motivi politici tu cosa qual è la tua posizione in merito da sportivo? cosa ti aspetti come risposta? Io che sono anche ambasciatore dell'Accademia Olimpica e che si sono formato nel Comitato Olimpico che vede nello spirito olimpico la sua linea guida perché la linea guida dell'olimpismo è lo spirito olimpico che fu ben decretato da Pindaro che era il cantore dell'Olimpia Antica che praticamente emetteva arte e sport come i due settori della vita in cui gli uomini sono invitati a confrontarsi per dimenticarsi della viltà e della guerra perché uno che usa la guerra vuol dire che ha poco cervello e perciò di che se ne sviluppiamo il corpo e la mente probabilmente entriamo in un altro settore che non è quello della forza fisica in questo caso delle armi e perciò confrontarsi con le armi vuol dire la realtà sull'umanità è una sconfitta dell'umanità in un modo incredibile perciò ma da qualsiasi parte provenga cioè ci sono 170 guerre nel mondo continuiamo per raccontare la guerra fra uno e gli altri e ci dimentichiamo dell'altro 168 perché abbiamo convenienza a dimenticarci abbiamo convenienza a dimenticare che ci siamo spesso dentro anche noi ma io non faccio parte di quella categoria di pensiero insomma la guerra è sempre un fallimento oggi leggevo un messaggio del Papa tra le proposito che invitava proprio in questo non c'è bisogno del Papa voglio dire non può dire chiunque anche prima in televisione sono stato in albergo oggi pomeriggio e vedevo la riunione di Putin con tutti i capi delle chiese diverse c'erano tutti tutti c'erano stati 12 14 diciamo delegati no ma c'era anche il patriarca di Mosca c'erano tutti per dire che anche loro si rendono conto che la guerra non è mica una una soluzione ai problemi io giusto giusto per precisare quindi lei è contro l'esclusione degli atleti ma secondo te posso essere anzi la partecipazione è la dimostrazione è il tradimento dell'olimpia infatti adesso il comitato olimpico il CIO comitato olimpico internazionale in mano ai soldi in mano ai soldi in mano alla coca cola e mcdonald che sono erano adesso non so che ci sono entrati prima che erano i due finanziatori principali delle olimpiadi e perciò risentono di tutti coloro che gli danno soldi e poi cioè il CIO non è un organismo chiamiamolo democratico e perciò è ancora più facile sottometterlo e perciò se c'era una possibilità di dimostrare che l'arte e lo sport superavano diciamo il concetto di guerra loro l'hanno tradito e hanno tradito lo spirito olimpico infatti infatti poi è stupido perché escludi e se dovessi escludere coloro che hanno iniziato delle guerre e fammi la classifica di quelli che dovrebbero essere escluditi no no infatti poi chi rimane chi compete no? gli Stati Uniti che hanno in mano la faccenda non sono i primi da cacciare ma da tanti anni da essere cacciati hanno scatenato tante guerre che sono la mica fatte loro infatti infatti io volevo giusto dire in conclusione ringraziandoti che è un grossissimo peccato che lo sport non riesca a rimanere fuori dalla politica esatto che non è riuscito a svolgere il suo compito sì questo è un grande peccato però volevo dire che a maggior ragione le iniziative come questi festival o le iniziative che hai condotto tu sono ancora più importanti proprio perché se a livello nazionale o internazionale non si riesce a fare quello che bisognerebbe fare esistono persone che col proprio impegno la propria passione riescono a fare le cose importanti cioè tessere rapporti aiutare i giovani e favorire il dialogo ma sai perché per loro infatti infatti emettono un punto di riflessione importante perché loro non capiscono questi concetti perché chi ha fatto veramente lo sport sa che si sale sul podio in virtù di un merito in questo caso un merito di un valore diciamo fisico agonistico mentale psittico sociale e anche nell'arte è la stessa cosa tu non è che premi un cantante balordo o va sul podio adesso purtroppo c'è il doping di mezzo perciò questo ragionamento è un po' diciamo si è un po' impoverito però in generale è quello il concetto invece nella politica oggi chi va sul podio? fatti una domanda chi appartiene? chi appartiene? chi sta zitto? chi non crea problemi? grazie mille Carlo sono due strane diverse ti ringrazio tantissimo e propongo di risentirci per continuare questa nostra chiacchierata ricordo a tutti che siamo stati con Carlo Devoti maestro dello sport del CONI ambasciatore dell'Accademia Olimpica Italiana grazie Carlo e spero di risentirti presto perché hai tante cose da dire grazie ciao grazie a te stai bene